Siro e il mistero delle sue impronte. Questo il titolo del libro dell'archeologo Luca Natali presentato nel salone della parrocchia Santa Madre di Dio a Macerata, in merito alla scoperta sul monte Conero delle orme di un antico rettile marino. Presente anche l'assessore del comune di Sirolo, Barbara Fabiani, che per l'occasione ha fatto dono ai bambini in sala di una copia del fumetto dedicato a Siro, personaggio diventato ormai un simbolo della città rivierasca, dove è avvenuta appunto la scoperta di Natali. All'incontro ha preso parte anche Barabba, al secolo Marco Luna, il pescatore che ha soccorso i ricercatori durante un momento di difficoltà dovuto al mare mosso nel corso delle ricognizioni. Spazio poi al racconto di Natali, iniziato dalla volontà di verificare da vicino delle macchie individuate su una zona impervia del monte Conero. Dopo le analisi del caso, le conclusioni hanno rivelato che le impronte rinvenute appartenessero a un rettile marino vissuto a oltre 200 metri di profondità 150 milioni di anni fa. L'illustratore scientifico Marco Astraceni e il designer Francesco Saverio Giovagnoli hanno poi descritto le tecniche utilizzate per raffigurare Siro, mentre l'icnologo dei vertebrati Giuseppe Leonardi ha coinvolto i bambini presenti raccontando delle tante tracce presenti sulla terra dei dinosauri, grazie alla sua esperienza di studioso maturata in sei continenti.